tra 300 metri bisogna stare e lo svoltare a destra ma non è qua 160 metri per destra, 140 metri per destra andiamo fuori per sacramento dopo mille e diecimila peripezie ce l'abbiamo fatta sinza droppi in doppio hollywood bisous Senti il gasolio penetrante Non soddisfazio Ne abbiamo preso un bovino smoothie Bavana e patana No, ci sono i gadget della Drute 66 No, al ritorno, l'ultimo giorno Mi riprendo uno da prima del cadera Ehm, ferma l'Anna che non si tolgono le scarpe No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Tieni gli occhiali, Mori Voglio provare Vai, prima metto i testi in giù Poi vedere se riesco a salire No, mamma, è tutto il cavolo No, mamma, sei difficile No, mamma, sei difficile No, mamma Ehi là Oh mamma Adesso provo a far lasciare Vai No, mamma 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 Però vedi ce la stai facendo Carivore Guarda, guarda Voi cosa volete prendere? C'è l'acqua No, mamma Voi cosa volete? 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 Voi cosa volete ? Voi cosa volete? Indipati Fu스트 present Jahreso supports Canalnue Sì, non lo so.